Musica Domani ultima tappa di Alison Tour a casa delle terre forti ad Aci Castello, focus sul ruolo dell'intermodalità centrale per lo sviluppo dell'economia insulare. Spiraglie sulla crisi del grano, partita da Odessa la prima nave con 26.000 tonnellate di cereali carichi per 200.000 tonnellate pronti a salpare. Occupazione record nell'ultimo anno, a giugno 400.000 lavoratori in più carano gli inattivi ma la disoccupazione giovanile sale ad oltre il 23%. Grimaldi triplica sulla Arbatax Cagliari Civitavecchia da sabato prossimo fino al 27 agosto al via la terza linea. Nello scalo Ogliastrino traffico in aumento del 116% rispetto allo scorso anno. Turismo a gonfie vele, il settore torna ai livelli pre-covid. 27 milioni gli italiani che andranno in vacanza tra luglio e settembre ma si riducono durata e budget delle ferie. Buonasera, domani sera in Sicilia si conclude il ciclo di Alison Tour. Il viaggio intrapreso a Roma dalla nostra associazione è il 24 maggio scorso passato attraverso le tappe di Napoli e Manduria e che vivrà la sua ultima tappa appunto domani a terre e forti ad Acci Castello a Catania. Ancora per parlare dello sviluppo del mezzogiorno e dell'importanza del mondo dei trasporti internazionali. Un viaggio ricco di riflessioni e di spunti che ha visto la partecipazione complessiva di 20 protagonisti della vita politico-economica del paese tra ministri, viceministri, sottosegretari e importanti stakeholder del sistema della mobilità sostenibile italiano. Nell'ultimo step di Alison Tour riflettori puntati sull'importanza della continuità territoriale e sui progetti infrastrutturali del PNRR necessari nei porti per la transizione energetica. Ma ascoltiamo ora un'importante voce del mondo dell'autotrasporto targato ALIS, l'amministratore delegato di Transitalia Luigi Dauria sul significato di questo ciclo di appuntamenti itineranti. Sicuramente è sempre interessante visitare, sentire, ascoltare gli imprenditori del Sud. Abbiamo fatto diversi eventi e sentire le varie stanze, le varie proposte, i vari progetti, danno quel valore aggiunto, quel volano, quelle stanze che ARIS metabolizza e quindi orienta verso il governo per apportare quei miglioramenti per il settore. Le stanze particolari sono quelle di un supporto ad intermodalità marittima, quindi vediamo che le normative sull'ETS ormai hanno preso un vigore importante ed è opportuno in questo scorso di tempo analizzare quelli che sono gli effetti e cercare tutte quelle metodologie, quegli interventi, a fine di neutralizzare o riuscire a ridurre l'impatto che possa avere appunto gli ETS. Ricordiamoci che dalle prime stime gli ETS possono pesare fino a 350 milioni sulle autostrade del mare. Pertanto è opportuno, onde evitare che ci sia un ritorno alla tuttostrada, di studiare strategie, condividere con il governo appunto quegli interventi che possono ridurre l'impatto economico. Vediamo adesso le altre principali notizie della giornata e partiamo dal mondo del lavoro. Un nuovo record per il tasso di occupazione in Italia che a giugno è salito al 60,1% ai massimi dal 1977. L'Istat ha rilevato che per effetto della crescita dei dipendenti permanenti il numero di occupati è tornato ad aumentare superando i 23 milioni e risulta inoltre in crescita dell'1,8% su base annua con un incremento di 400 mila unità. E se si registra un lieve calo dello 0,2% degli inattivi, il tasso di disoccupazione stabile in riferimento alla popolazione complessiva è cresciuto invece di oltre un punto e mezzo tra i giovani al 23,1%. E mentre lo scenario internazionale rischia di frenare i consumi e l'attività economica del paese, sul mercato del lavoro italiano incombe anche l'ombra della crisi demografica. Secondo alcune stime del CGL, infatti il calo della natalità unito all'aumento dell'età media comporterà in vent'anni la perdita di 6,8 milioni di lavoratori. Inoltre il sistema pensionistico e assistenziale diverrà difficilmente sostenibile con una popolazione non in età da lavoro che aumenterà di 3,8 milioni di unità. Meno nascite, migranti che si spostano in altri paesi o che tornano a casa, giovani italiani formati che vanno all'estero, aumento dell'età media di vita. La crisi demografica dell'Italia è nota e sempre più evidente, ma avrà anche un impatto notevole fra tutti gli altri sul mondo del lavoro, che potrà contare su un bacino di lavoratori sempre più ridotto, di 6,8 milioni di persone in meno. La popolazione non in età da lavoro registrerà poi una robusta crescita di 3,8 milioni di persone. E già ora il calo demografico distorce il dato sulle tasso di occupazione, che è più basso delle statistiche ufficiali. A disegnare il quadro è la fondazione di Vittorio della CGL in un articolo firmato dai due ricercatori, Beppe Desario e Niccolò Giangrande. Il lavoro suggerisce una serie di misure, alcune immediate, altre più strutturali. Nel breve si chiedono interventi sulle condizioni di lavoro, sulla precarietà, sui salari e sulle regime di orari, oltre a cambiare le politiche migratorie in entrata e in uscita, sia numericamente che dal punto di vista dei diritti delle persone e interventi a sostegno della natalità. Industria in contrazione. Dopo un primo semestre molto positivo, il settore manifatturiero italiano ha registrato una brusca frenata a luglio. Per la prima volta da due anni l'indice PMI in Italia è sceso a 48,5, dai 50,9 precedenti al di sotto delle attese. Stesso scenario in Europa, dove la produzione sta calando a ritmi decisamente preoccupanti, con l'indice PMI che si è ulteriormente indebolito a 49,8 punti, segnalando il più forte calo degli ultimi 25 mesi e alimentando così il rischio di una recessione. Si sblocca l'export del grano ucraino in conformità con l'accordo internazionale firmato a Istanbul. Il 22 luglio è partita questa mattina dal porto di Odessa la prima nave carica di cereali. L'unità trasporterà circa 26.000 tonnellate di mais in Libano, mentre altre 16 navi sono pronte a salpare con carichi per 200.000 tonnellate complessive. I rappresentanti del centro di coordinamento congiunto di Istanbul utilizzeranno i satelliti per monitorare il passaggio in sicurezza delle navi. Si tratta di un segnale positivo, ha commentato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, mentre la Turchia ritiene che sarebbe inoltre opportuno lavorare allo sblocco del grano in attesa di essere esportato dai porti russi. Intanto il conflitto bellico è tutt'altro che alla fine il clima è ancora più teso che nelle scorse settimane. Dopo alcuni giorni di silenzio riappare Vladimir Putin e ancora una volta dalle sue parole non emerge alcun segnale di dialogo, anzi il presidente russo torna ad attaccare la Nato e annuncia per i prossimi mesi l'arrivo dei temuti missili ipersonici Circon, il tutto mentre in Ucraina la guerra continua a miettere vittime e distruzione. Nel suo discorso a San Pietroburgo, dove si è recato per la parata delle navi da combattimento della marina, Putin ha sottolineato che la Russia garantirà con fermezza la protezione dei suoi confini marittimi con tutti i mezzi, subito dopo il presidente russo ha firmato il nuovo regolamento nazionale che delinea i confini e le aree degli interessi nazionali della Russia. Il clima nel Mar Baltico e nel Mar Artico è tesissimo. L'annunciato ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato pone più di un problema alla Russia che allo stesso tempo è stata di fatto esautorata dal Consiglio Artico che riunisce i paesi bagnati dal grande mare settentrionale. La nuova dottrina marittima firmata da Putin definisce l'espansione dell'infrastruttura militare della Nato ai confini russi e il crescente numero di esercitazioni del blocco militare nei mari adiacenti al territorio russo come principali minacce alla sicurezza. La flotta di Mosca continua intanto ad armarsi. La fregata Ammiraglio Gorshkov sarà il primo vettore di missili ipersonici Chircon, ha annunciato Putin. Nel frattempo nel sud e nell'est dell'Ucraina i combattimenti non si fermano. Sono stati ben 40 i missili che tra sabato notte e domenica mattina hanno investito la città di Mykolaiv. Si tratta di uno dei bombardamenti più massicci dall'inizio della guerra, ha denunciato l'autorità militare regionale ucraina. Veniamo alla crisi energetica. Gazprom ha interrotto oggi le forniture di gas alla Lettonia. La multinazionale russa ha dichiarato che nei primi sette mesi dell'anno a fronte di un calo delle esportazioni del 35%, le forniture verso la Cina sono incrementate del 61% rispetto allo stesso periodo del 2021. Le crescenti tensioni sulla guerra del gas e l'ipotesi che Gazprom riduca ulteriormente i flussi attraverso il Nord Stream hanno fatto accelerare oggi le quotazioni ad Amsterdam, dove hanno superato nuovamente la soglia dei 200 euro a megawattora. La questione delle risorse energetiche intanto ha visto oggi la Banca Centrale Europea lanciare un nuovo allarme. Secondo la BCE, infatti, lo shock petrolifero dovuto alla guerra in Ucraina, nell'ipotesi di un rialzo permanente del 40% delle quotazioni, potrebbe causare nel medio termine una perdita di circa lo 0,8% del PIL potenziale dell'Eurozona. Bollettino sulla pandemia. Diminuiscono ancora i contagi nel nostro paese. Prosegue anche il calo dei ricoveri scesi al 16% nei reparti ordinari, stabili al 4% nelle terapie intensive nelle ultime 24 ore. Sono indici che testimoniano un quadro epidemiologico in discesa, ma per quest'estate, nonostante la fine delle restrizioni, continua a persistere l'incubo del Covid, con una possibile nuova ondata prevista in autunno. Il terzo agosto col Covid, il primo senza restrizioni. Ma la pandemia non è affatto un ricordo e ora incombe l'incognita della nuova sottovariante di Omicron, apparsa anche in Italia, anche se per ora nel nostro paese si è registrato solo un caso e non è considerata una variante letale. I dati testimoniano di un calo di casi, ricoveri e intensive. Agosto inizia però con l'interrogativo Centaurus, registrata anche in Italia nel campionamento 11-17 luglio, secondo quanto si legge nelle schede dell'Istituto Superiore di Sanità. Una variante che arriva nella prima estate senza norme restrittive dall'inizio della pandemia, via obblighi di mascherine, via distanziamento e via Green Pass, che lo scorso anno, assieme alle consuete protezioni, accompagnò le vacanze degli italiani. Ora restano solo le mascherine su aerei, treni, bus e negli ospedali e per il resto cautela e buonsenso da usare soprattutto in caso di posti affollati o in presenza di fragili. A temere una recrudescenza di contagi ad ottobre, complice la nuova variante, è l'infettivologo e direttore della Clinica San Martino di Genova, Matteo Bassetti. In Italia si attendeva che arrivasse Centaurus, infatti abbiamo il primo caso, spiega. Dai dati in nostro possesso al momento, i vaccini, anche quelli non aggiornati, sono in grado di dare copertura per le forme di infezione più importante. Se prenderà il sopravvento, potremmo assistere ad una fiammata di contagi per settembre-ottobre, ma non dobbiamo allarmarci. Tutto sarà meno grave se non perdiamo tempo e procediamo con la campagna vaccinale, ha aggiunto. La campagna vaccinale d'autunno è in preparazione con la possibilità della somministrazione in un'unica seduta di anti-covid e anti-influenzale, mentre proseguono le quarte dosi per gli over 60 e si attendono i vaccini aggiornati. Nonostante il rialzo dei contagi, sono positive le stime sulla stagione turistica in corso. 27 milioni gli italiani in partenza per le vacanze tra luglio e settembre, ma si riducono la durata delle ferie e il budget che le famiglie hanno deciso di destinarvi. Si prediligono soggiorni brevi, per lo più al mare, che rimane metà prediletta con il 44% delle preferenze. Segue la montagna con il 15%, mentre le vacanze nelle città d'arte e nei piccoli borghi raggiungono insieme quota 21%. Inoltre l'88% dei vacanzieri intende rimanere in Italia, mentre il restante 12% andrà all'estero, soprattutto in Europa. In linea con le stime del Fondo Monetario e dell'Istat, l'industria del turismo traina il PIL del nostro paese. La conferma di come il settore sia tra i più brillanti a stimolo della crescita, osservato il ministro del turismo Massimo Garavaglia, viene dall'analisi dell'andamento del PIL negli altri paesi con più o meno vocazione turistica. Per partire si parte, ma sono viaggi lampo e risparmiosi, eppure last minute. È l'estate del mordi e fuggi, dell'ansia per un autunno da vivere con la recessione economica, i rincari delle bollette, l'estate delle forse mi prendo di nuovo il Covid e annullo tutto. Il nuovo picco dei contagi Covid, l'inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese, si fanno sentire sulle partenze estive degli italiani. Nonostante siano tanti gli italiani che andranno in vacanza quest'estate, 27 milioni come nel 2019, la recrudescenza pandemica ha fatto crollare le partenze di luglio a 12 milioni 300 mila, rispetto ai 16 milioni 800 mila previsti solo un mese fa. Un calo che nel 20% dei casi è determinato da disdette delle prenotazioni effettuate, mentre per il restante 80% è rappresentato da chi a giugno era intenzionato a partire, ma poi non ha più organizzato il viaggio. Caro energia, inflazione e crisi politica incidono invece sui progetti di vacanza per agosto e settembre, che pur rimanendo sostanzialmente stabili come numero di partenze rispetto a quanto previsto, vedono ridursi di quasi 3 milioni i viaggi di 7 giorni o più e aumentare quelli di durata media e soprattutto i break brevissimi di due pernottamenti al massimo. La forte ripresa del turismo e i numeri confortanti scaturiti per il traffico passeggeri spinge il gruppo Grimaldi ad implementare le linee per la Sardegna a supporto di una richiesta sempre crescente, infatti a partire da sabato prossimo sarà attivo un terzo collegamento settimanale sulla linea Arbatax-Cagliari-Civitavecchia. Fino al 27 agosto, alle consuete partenze del martedì e giovedì, la compagnia aggiunge appunto una corsa anche il sabato. Con il traffico in aumento del 116% rispetto allo scorso anno e grazie ai continui collegamenti assicurati dalla compagnia Grimaldi Lines, lo scalo ogliastrino si conferma anche quest'anno strategico sia per i vacanzieri che per gli autotrasportatori. Dal mare alla strada, la gestione delle autostrade abruzzesi e laziali A24 e A25 torna nelle mani di ANAS, come aveva stabilito un decreto legge del Consiglio dei Ministri il 7 luglio scorso. Il Consiglio di Stato, che ha parlato di gravi inadempienze, ha riformato l'ordinanza del Tar Lazio, che aveva concesso per due volte la sospensiva della decisione del CDM, accogliendo il ricorso della concessionaria strada dei parchi SPA. Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'istanza dell'avvocatura di Stato sospendendo l'ordinanza del Tar del 27 luglio e fissando l'udienza di merito il prossimo 25 agosto. Cambiamo argomento e passiamo alla politica interna. Governo ancora al lavoro in settimana si chiuderà il decreto aiuti. Prendono forma i nuovi interventi per dare più soldi ai lavoratori e pensionati in arrivo con il decreto aiuti bis la prossima settimana. Un ulteriore taglio del cuneo fiscale per i lavoratori e l'anticipo della rivalutazione degli assegni pensionistici punteranno a ridare fiato al potere d'acquisto eroso in questi mesi dall'inflazione galoppante che ormai viaggia vicino all'8% e dal caro energia. Oltre alla proroga dello sconto carburanti e bonus bollette, il Governo sta mettendo a punto un altro taglio del cuneo fiscale che dovrebbe essere di un punto percentuale aggiuntivo rispetto a quello di 0,8 punti già in vigore fino a fine anno per sei mesi da luglio a dicembre prossimo per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro l'anno. Per i pensionati invece arriverà l'anticipo della rivalutazione di tre mesi che era prevista per gennaio 2023 che dovrebbe essere attorno al 2%. Il Consiglio dei Ministri è atteso a metà della prossima settimana tra mercoledì e giovedì per il via libera al pacchetto di misure. Multa da 82.000 euro per CIN Tirrenia all'iniziativa dell'autorità di regolazione dei trasporti prende le mosse dalla ricezione di reclami da parte di passeggeri su 19 distinti viaggi effettuati dalla compagnia fra luglio e novembre 2021. Ricezione a cui ART ha fatto seguire la richiesta di altrettanti chiarimenti e solleciti a Cina ai quali tuttavia la compagnia ha ottemperato solo tardivamente e parzialmente. Di qui il calcolo della sanzione. Secondo l'autority avarie ispezioni e riduzioni del personale non rappresentano cause di forza maggiore che svincolano la compagnia dalla responsabilità degli omissi riscontri. In arrivo dalla Commissione europea una consultazione pubblica per una mobilità più sostenibile. L'iniziativa consentirà una più uniforme misurazione delle emissioni di gas serra relative ai trasporti e alla logistica indipendentemente dalla modalità settore e paese di attività permettendo a tutte le parti interessate di compiere scelte informate. La consultazione per imprese, passeggeri e consumatori sarà aperta fino al 17 ottobre. In chiusura del nostro telegiornale veniamo ad una notizia che riguarda l'andamento del mercato dei veicoli commerciali leggeri. Nel primo semestre dell'anno le immatricolazioni hanno registrato un calo dell'11,2%. Tuttavia per il settore dei veicoli trainati, rimorchi e semirimorchi con portata superiore all'etreto nel latte e mezzo il mercato segna un aumento a doppia cifra con le immatricolazioni cresciute del 13,3%. Con questa notizia si chiude il Tg di questa sera ringraziandovi per l'attenzione e vi ricordiamo che domani la nostra programmazione subirà alcune variazioni in funzione della tappa siciliana di Alison Tour alla scoperta del mezzogiorno. Vi diamo dunque appuntamento alle 15 con il Tg Flash e alle 18 con il Tg News per poi poter seguire l'intero evento in diretta streaming su tutti i nostri canali social. a presto. a presto. a presto. Grazie a tutti.